Bandiere al vento nel vero senso della parola visto il tempo per la UIL Abruzzo nella mobilitazione regionale a Pescara sotto la prefettura contro la legge di bilancio del governo Meloni. Un no forte e chiaro anche da parte della CGL ieri nello sciopero regionale. La mobilitazione della UIL in difesa di lavoratori e pensionati proseguirà se non arriveranno risposte chiare dal governo dice Michele Lombardo, segretario regionale UIL Abruzzo. Noi riteniamo questa manovra di bilancio iniqua iniqua perché aumenta il precariato nel mercato del lavoro aumentando i voucher, crea le condizioni di una divisione tra i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti con la flat tax e poi c'è il problema della previdenza. Noi pensiamo che bisogna da subito partire per una riforma strutturale il sistema previdenziale che pensi soprattutto alle giovani generazioni. Ma dobbiamo partire da questi punti fondamentali. Tra questi punti fondamentali ho dimenticato di dire che c'è un tema dei temi che è l'autonomia differenziata sulla quale dobbiamo stare molto attenti perché non vorremmo creare in questo Paese regioni di serie A e regioni di serie B. Tra gli altri punti contestati nella legge di bilancio dicono i rappresentanti della UIL l'ennesimo condono fiscale e il depotenziamento della tassa sugli extra profitti, il peggioramento di opzione donna, l'abolizione del reddito di cittadinanza, la non menzione della transizione ecologica, la mancanza di investimenti in scuola, ricerca, sanità e mezzogiorno. Germana Temporin, segretaria regionale UIL Pabruzzo, rappresenta i pensionati. Perché siamo particolarmente arrabbiati in primis perché per l'ennesima volta, perché sono anni che all'inizio dal primo di gennaio, allora quando noi dovremo ricevere la perequazione automatica sulle pensioni, quindi un aumento sulle pensioni legato all'inflazione, che arriva un intervento legislativo e ci taglia questi aumenti. Quindi i pensionati per l'ennesima volta sono da banco ma fanno da banco ma per questo governo in primis. Seconda, una cosa molto importante per noi, era la legge sulla non autosufficienza. Uno degli argomenti più delicati è quello della sanità pubblica. Massimiliano Bravo, segretario territoriale di Teramo, UIL FPL. Fare come si sta facendo adesso, in cui l'aumento del fondo sanitario è soltanto quello per compensare le spese Covid e non c'è un aumento che porta allo sviluppo, specialmente per quanto riguarda il riperimento delle risorse umane. Questo vuol dire che stiamo esponendo tutta la popolazione a nuovi rischi. Tra i vari settori e comparti rappresentati oggi è anche quello dei metalmeccanici, portavoce Nicola Manzi, segretario Wilm Chieti Pescara. La situazione è quella che vediamo, pandemia e crisi stanno mettendo in ginocchio un settore così importante per la nostra provincia e per la nostra regione, per cui abbiamo bisogno di risposte, certezze, lavoro e continuità, in questo caso di attività produttiva. Duramente penalizzati in questi tre anni commercio e turismo, afferma Bruno Di Federico, segretario organizzativo Wiltux Abruzzo, il quale taglia corto ci siamo trovati a subire perché aspettavamo aiuti. Non solo per le bollette che è importante, ma anche per gli sgravi fiscali, gli sgravi sulle buste paghe, ci aspettavamo sulla tredicesima una tassazione minore. Intanto una delegazione dei rappresentanti della Wil è stata ricevuta dal prefetto di Pescara.